Si è aperta questa mattina alle 10 la vendita dei tagliandi per la partita di domenica sera all'Adriatico-Cornacchia tra Pescara e Inter. Il clima che si respira è quello da tutto esaurito, un po' per il blasone dell'avversario, un po' per l'entusiasmo generato dalle prestazioni del Pescara nelle prime due giornate di campionato corroborato dalla vittoria a tavolino, attribuita al Delfino dal giudice sportivo. I biancazzurri di Massimo Oddo, proprio da questo lunedì, ripartono con gli allenamenti per preparare il posticipo della terza giornata, con una buona parte di potenziale ancora da esprimere. L'amichevole col San Nicolo di giovedì scorso ha lanciato segnali incoraggianti per Alberto Aquilani e Jean-Christophe Baebec. Il centrocampista romano avanza già la sua candidatura per un posto da titolare in mediana, lui che rappresenta il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Delfino. Quasi certamente partirà ancora dalla panchina l'attaccante francese che deve completare il processo di ambientamento, considerando anche che in fase offensiva il Pescara si è mosso bene e che se Oddo decidesse di inserire un centravanti più di ruolo, quasi certamente opterà per Ray Manai in gol contro il Sassuolo. A indossare i panni di leader e di ex sarà Ugo Campagnaro. Il difensore argentino per due anni ha indossato la maglia dell'Inter, anche se l'esperienza milanese non ha avuto gli stessi fasti di quella napoletana, anche perché si incrinarono i rapporti con la loro tecnico Walter Mazzarri. Poi i ben noti problemi fisici, in due stagioni sono state 31 le partite in nerazzurro, 23 delle quali il primo anno per il Toro di Moron che contro il Sassuolo ha toccato le 200 presenze in Serie A. Sarà una gara speciale per gli ex Biraghi e Manai che in estate sono arrivati dall'Inter, il difensore a titolo definitivo, l'attaccante in presido dopo aver debuttato lo scorso anno collezionando quattro gettoni nella massima serie. Manai è dunque di proprietà dell'Inter e su Twitter ha confermato «Non posso esultare contro l'Inter, ma darò il massimo per vincere, magari segnando». Così come da pochi mesi anche Gianluca Caprari è di proprietà del club nerazzurro, promesso sposo nell'ambito proprio di quell'operazione che ha portato in arriva all'Adriatico Manai e Biraghi. Una sinergia, quella tra Pescara e Inter, che poteva arricchirsi in caso si fosse concretizzato l'interesse nerazzurro per Valerio Verre, cosa che potrebbe comunque avvenire in futuro. Nel frattempo Oddo attende il rientro dei nazionali, dopo Gjomber, ieri impiegato per quasi tutta la ripresa con la Slovacchia, beffata nel finale dall'Inghilterra, stasera toccherà Manai e Memushai, Albania impegnata con la Macedonia per le qualificazioni al Mondiale russo. Domani Verre in campo con l'Under 21 contro Andorra nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria.